Tu sei speciale per tutti noi, Nao, quindi non ci tratterremo, quindi sì, siediti e ti scoppiamo tutti insieme. Ma ti stai ascoltando, Sayaka? Sì, Nao, pronta o no, sto arrivando. Sayaka, bla bla bla, era seria, mi guardava. Sayaka? Inizierò con il bacio sulla guancia e poi farai a... Io sono la prossima. E poi ci sono anch'io, quindi sbrigatevi. Sayaka, ricordati che gli altri clienti aspettano. Questo capitolo è addirittura peggio di quanto lo ricordassi. Mamma mia! Io vorrei capire una cosa, ma... Non sentiamo parlare Inumaru da... No, si sta avvicinando fino a... Però dai, un po' di risate te le dà, sto capito? Si avvicinava pianissimo. Era solo un bacio sulla guancia, ma dalla sua espressione sì, sembrava focussata come... Un chirurgo con il suo paziente, era nervosa, vabbè. Ma comunque volevo dire, sono tipo dieci minuti buoni che Inumaru non dice più una parola. È morto, soffocato. Ha avuto un'erezione talmente lunga che non ha più sangue alla testa. Ha dovuto prendere un'altra sedia per il cazzo. Ha avuto un'erezione talmente lunga che non ha più sangue alla testa. No, 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 ma continuate. Aspetta, ho bisogno di tempo per prepararmi. Sapessi io. Sapessi in umano. Oddio. Fa un po' Waldo ha chiamato la polizia. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio, quanto amo Corse Party, cazzo. Aiuto. Ok, va bene, se devi farlo, fallo e batto. È come un guerriero che si preparava una battaglia. Ho chiuso gli occhi e ho aspettato il mio destino. Oh! Zip dei pantaloni ha ceduto. Zip! Mamma! Ha? Ho!